buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale youtube un altro video per rispondere alle vostre domande in particolare una ovviamente abbiamo sempre paura di tagliare le nostre bellissime stoffe ma ancora di più quando si tratta di stoffe con i quadri tartan scozzesi eccetera eccetera allora oggi vi mostro come posizionare i cartamodelli su tessuto e come sistemare la stoffa di modo da far combaciare i quadri ovviamente ve lo mostro con questo abito un attimo non è possibile far combaciare i quadri o comunque la linea in tutti tutti i punti dell'abito come ad esempio questo abito qua in questo caso qua abbiamo il fianco e come vedete qua va ad aprirsi e a prendere una direzione diversa questo perché andando a stringere le penso andando a largare nei punti in base alle nostre forme del corpo la linea cambia ma come potete vedere l'allineamento delle righe vedete queste l'allineamento delle righe sul fianco è perfetto stessa cosa se noi andiamo a prendere il dietro ovviamente qua in questo caso questo è il dietro e chiaramente qua le linee vanno ad unirsi perché comunque la vita è più stretta rispetto a questa parte quindi queste linee qua hanno questo effetto ma anche in questo caso come potete vedere sono perfettamente combacianti la prima cosa che dobbiamo andare a fare è piegare la stoffa piegare il tessuto e andare a controllarla completamente è un passaggio un pochino lungo ma ne vale davvero la pena dunque che cosa dobbiamo fare le nostre linee i nostri quadrati devono combaciare sia in direzione della trama e sia in direzione del loro dito quindi sia in questa direzione che in questa direzione devono combaciare che cosa vuol dire che noi andremo a prendere la nostra stoffa la pieghiamo la sistemiamo bene e poi andiamo ad alzare la stoffa la facciamo scorrere e ci assicuriamo che tutte le linee tutti i quadri vadano combaciare laddove vediamo che la linea e il quadro è spostato la andremo a risistemare per bene chiaramente dobbiamo controllare anche da questo lato che le linee vadano combaciare anche qua se vediamo che non combaciano andremo a spostare il tessuto fino a farle combaciare completamente vi faccio l'esempio con il pantalone in questo momento poi vi faccio vedere anche la camicetta allora per quanto riguarda il pantalone noi inizieremo a puntare sul tessuto in dritto filo una gamba cioè la parte la parte davanti o la parte dietro allora aver sistemato le stoffe precedentemente ci permetterà di avere la gamba destra e la gamba sinistra perfettamente allineate perché anche questo va calcolato che non solo il fianco ma anche la gamba destra e la gamba sinistra devono essere comunque allineate quando si avvicini e non sfasate comunque di quadri quindi andiamo a puntare la gamba del davanti abbiamo puntato il pantalone davanti e come vedete questo qua è l'angolo praticamente vita fianco quindi dobbiamo andare a sistemare il pantalone dietro di modo che poi tutte le linee sul fianco vadano a combaciare quindi cosa dobbiamo fare semplicemente dobbiamo andare a mettere in dritto filo la parte del pantalone dietro e dobbiamo mettere questa punta di vita e fianco esattamente in linea con questa qua quindi andiamo a appoggiare il pantalone come vedete qua aspetta che tolgo lo spillo vi faccio vedere la punta va a finire esattamente all'angolo della parte blu e quindi anche in questo caso metteremo e punteremo la punta tra il fianco e la vita esattamente lungo la stessa linea in questo modo automaticamente tutta la parte del fianco andrà a combaciare se infatti voi sul cartamodello avete la linea della tacca del ginocchio e andate andete a controllare vedrete che andrà ad essere esattamente nello stesso punto ora l'unico errore che potete fare qua in questo momento per spezzare i quadri e di andare quando utilizzate la macchina a cucire a tirare una parte di tessuto rispetto a un'altra di più o di meno quindi se volete allora a parte che sul vostro cartamodello avrete la tacca del fianco avrete diverse tacche che vi aiuteranno in ogni caso quando voi avete posizionato il cartamodello sul tessuto potete andare a realizzare delle tacchette in linea con le vostre linee di modo che quando voi andate a cucire sapete che unendo queste tacchette il pantalone vi verrà con il fianco esattamente allineato in questo modo il nostro pantalone sarà completamente allineato ma la cosa più brutta che potrebbe capitare è avere specialmente nel dietro il cavallo disallineato vi è mai capitato di vedere i pantaloni dietro con le righe che al cavallo prendono una forma strana o non sono completamente allineate allora in teoria se abbiamo sistemato bene la stoffa sotto le linee dovrebbero combaciare ma per avere un maggior controllo che cosa si può fare quando andiamo a tagliare il cartamodello ora io non lo taglio perché questo è un tessuto che vi sto utilizzando come esempio per farvi vedere ma non è questo il progetto che voglio fare quindi nel momento in cui andiamo a tagliare andremo a tagliare solo la parte sopra del tessuto una volta tagliata la parte sopra possiamo abbiamo la possibilità di vedere se sotto combacia perfettamente se combacia perfettamente andiamo a tagliare anche il sotto o altrimenti andiamo leggermente a sistemarlo oppure se volete tagliare tutte e due le parti insieme perlomeno andate ad alzare il tessuto in questo modo e controllate che lungo il cavallo le linee combacino perfettamente ora vi mostro il piazzamento di un progetto un pochino più difficile che sarà anche il mio prossimo progetto lo troverete presto come confezionarlo è un gilet e vi mostro quando ci sono più parti come piazzare il cartamodello sul tessuto a quadri potrebbe essere anche il piazzamento di una camicetta per dirvi questo è il dietro intero su ripiegatura della stoffa questo è il fianco del dietro che va poi a combaciare in questo punto questo è il fianco del davanti e questo qua è il davanti in questo punto abbiamo il centro davanti dove avremo la bottonatura del gilet o potrebbe essere anche la bottonatura di una camicia e sappiamo benissimo che il nostro centro davanti per quanto riguarda la bottonatura deve avere l'unione delle righe impeccabili devono assolutamente combaciare ma deve combaciare anche il fianco davanti con il fianco dietro quindi come facciamo? iniziamo dal davanti anzi iniziamo dal dietro come per il pantalone inizio ad appoggiare sul tessuto una parte del cartamodello nel mio caso il dietro perché poi a scalare vanno attaccati tutti gli altri pezzi quindi ho puntato il mio dietro al tessuto e il fianchetto lo sono andata a puntare facendo attenzione che questa punta combaci esattamente con questa e la tacca di unione del fianchetto al dietro combaci esattamente sulla linea vi faccio vedere da più da vicino vedete? la punta di fine fianchetto e la punta di fine unione fianchetto sono esattamente sulla stessa linea del disegno stessa cosa per il punto di unione del fianchetto con il punto di unione del dietro queste sono le tacche che voi dovreste avere sui cartamodelli come potete vedere la tacca di unione è esattamente sulla stessa linea del disegno allo stesso identico modo la punta del fondo è esattamente allineata con la punta del fondo del fianco il fianco dietro una volta attaccato il fianchetto al nostro dietro dovrà perfettamente combaciare con il nostro fianco davanti questo sarà esattamente il nostro fianco cioè dall'ascella in giù proprio il fianco della camicetta, dal gileo e di quello che sia anche in questo caso la punta di un fianco e la punta dell'altro sono sulla stessa linea la tacca, non so se riuscite a vedere con l'altra tacca sono esattamente su questa linea e anche i fondi sono esattamente su questa linea la stessa identica cosa faremo quando appoggeremo sul tessuto il fianchetto dal davanti la linea di unione del fianchetto con il davanti deve essere esattamente sulla stessa linea del disegno e così va posizionato il cartamodello sul tessuto a quadri spero di essere riuscita a farvi capire come funziona lo so che è un procedimento un pochino lento richiede molta attenzione però poi è una soddisfazione pazzesca avere un capo con i quadri perfettamente combacianti se qualcosa non vi è chiaro mi raccomando scrivetemelo se vi è piaciuto il video mettete un like mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo perché questo progettino deve prendere forma ciao 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 ciao